Ragazzi, Scoop, Scoop incredibile, è il Milan la squadra partner di UFL, eccola qui l'immagine, si vede nel video, è questa, guardate voi stessi, guardate voi stessi, questa era la nostra live, arriviamo a 34.11, eccolo qui, il Milan, ringrazio davvero chi lo ha segnalato, io non lo avevo visto, assolutamente non lo avevo visto, è il Milan la squadra partner di UFL. UFL, incredibile ma vero, abbiamo scoperto la squadra partner di UFL in anticipo, grazie a tutti, per tutti coloro che lo avevano segnalato, io non l'avevo visto, invece avevano assolutamente ragione, sempre Milan, lotteremo fino alla morte, sempre Milan, forza Milan, AC Milan, AC Milan, verissimo, incredibile ma vero, complimenti a chi lo ha visto, complimenti e grazie per la segnalazione, al prossimo video!